C'è sto barbiere che è un po' paravento, quindi un bel giorno entra un nuovo cliente nella sua bottega lui lo fa sedere, gli fa lo shampoo, gli taglia i capelli e alla fine gli dice signor Franco, io qua sulla cute vedo un bel po' dei buchetti, ci sono un po' dei spazi vuoti ma come spazi vuoti? Io ho sempre avuto tutti i capelli sembra, sembra, perché a guardate di fronte non è come guardate da sopra ma ti assicuro che qua c'è bisogno di un bello shampoo che blocca la caduta dei capelli ah, ma perché te c'hai un shampoo che blocca la caduta dei capelli? certo, ce n'è uno sensazionale e senti, ma che regali? Ma che te regalo? Ma assolutamente no questo è un shampoo miracoloso che solo a noi ci viene a costare 80 euro a te te lo posso mettere a 100 euro, te posso fare un prezzo di favore ah, ma paghiamolo prezzo di favore e vabbè, e dammi sto shampoo insomma, Franco s'accatta sto shampoo e se ne va a casa torna la volta successiva da sto barbiere il barbiere gli dice allora, com'è andato lo shampoo che ti ho dato per bloccare la caduta dei capelli? eh, com'è andato? non è che la caduta si sia proprio bloccata però diciamo che si è rallentata prima cascavano così, invece mo' cascano così grazie grazie